Sono stati sanificati in mattinata gli uffici del comune di Avellino regolarmente aperto per la riunione dei sindaci dell'area vasta dopo il caso di positività riscontrato su un dipendente del settore ambiente e patrimonio di Piazza del Popolo. I colleghi dell'impiegato comunale che non era vaccinato per motivi legati al suo stato di salute sono finiti in quarantena, ma la situazione è sotto controllo, assicura il sindaco Gianluca Festa. Assolutamente sì, è partito il protocollo previsto in questi casi, sanificazione della merita di lavoro, anche del bar che era stato utilizzato dal nostro dipendente, messo in quarantena il dipendente dall'ASL, tutto regolare, infatti stamattina le attività sono riprese regolarmente. Anche gli altri dipendenti che erano entrati a contatto sono in quarantena, quanti sono più o meno? Guardi, questa è una competenza dell'ASL che ha effettuato la classica intervista ed evidentemente ha emanato l'ordinanza affinché si ponessero in quarantena i contatti più stretti. Le percussioni sul lavoro degli uffici non ce ne sono state? Assolutamente no, per fortuna e anche la macchina organizzativa ha funzionato perfettamente. Intanto anche in Irpini è scattata la somministrazione di massa della terza dose e sono tornate le fili al centro vaccinale del Pala del Mauro. Nelle ultime 24 ore inoculate 1140 dosi di vaccino. Nel bollettino di ieri, oltre ai 10 nuovi infetti nel capoluogo, si è registrato un'impennata di casi a Monteforte, 7. A Montella ha risultato contagiata un'intera famiglia, mentre a Cervinara al momento restano positive 88 persone.